Buonasera dal Millennium, terza giornata di Coppa Calciotto si affronta la martedì Galleria 19, ottica esposita. Gianluca allocca in possesso palla, fa girare, c'è allocca limite l'aria, ancora Gianluca allocca che allarga per Rachidio. Nuovo da Ruffo, può mettere in mezzo, c'è Sorrentino che da due passi, spreca di testa, Mario Sorrentino. Il calciodanno di Rachidio, va direttamente in porta, c'è la parata del portiere che salva e allontana in qua, centrale da Mirante e quindi Andrea Catalano, sempre Mirante, passa tutto da lui, ancora Catalano, zona tiro ci prova, Mangini messo in difficoltà, la tiene in due peri, quindi è Mirante, pallone perso, attenzione a Ruffo, contero in base e calcia, Ruffo, 1-0 ottica esposita, il solito Gianluca Ruffo, il suo solito sinistro, però la complicità è di giumento che ha già recuperato, affidando il pallone ad allocca, va a centrale da Rachidio, Rachidio per Ruffo che calcia ancora e trova questa volta la risposta pronta e attenta del portiere. Aielli con la rimessa lunga, Molinari che buca ed il gol di Mario Sorrentino, 2-0 ottico esposito, lo schema su rimessa di Aielli che funziona ancora, Catalano, buono lo stop di Catalano che poi supera con il tunnel Troisi, ancora Andrea Catalano, bella giocata, Marigliano per Monaco, esce Mangini, il pallone che però viene messo in mezzo e addirittura centra il palo, e poi si complica la vita, la perde sull'attacco di Marigliano, il retropassaggio di Marigliano per giocparti, poi Amirante, trova l'angolo alto e il martedì Galleria 19 ritorna in partita con un super goal di Luca Amirante. Torna in campo le squadre per la ripresa con ottica esposita in partito, 2-1 sul martedì Galleria 19 con le reti di Ruffo e Sorrentino e quella di Amirante. Da Amirante, Ruffo, il palleggio, salta due avversari e poi Monaco che allontana, il pallone però rimane lì, per Allocca che calcia, colpisce Sorrentino e fa 3-1, ottica esposita che torna ancora sul doppio vantaggio, la conclusione per Marigliano, punta esposita e poi torna da Zuppardi, Zuppardi anche in zona tiro, verticalizza per Catalano che gira, Mangini con i piedi, poi il pallone ancora per Catalano che calcia sul fondo, con le mani andrà Monaco che trova Amirante, al limite dell'aria, a girata di Amirante, pallone deviato, in calcio d'angolo con Diomento che torna da Ruffo, pallone messo in mezzo, c'è Allocca al limite dell'aria, Allocca per Sorrentino, la tripletta del principe, ottica esposita 4, martedì 1. Diomento è già recuperato, quindi Sorrentino, Ruffo in zona tiro, ci prova! E sfiora il super gol Gianluca Ruffo, ottica esposita, adesso può davvero dilagare Ruffo cambia gioco alla grande per Allocca, la sponda perfetta per Sorrentino, controlla Sorrentino e Monaco rinviene e salva un gol già, non va mai ad Allocca e viene intercettato dalla difesa Attenzione a Zuppardi che è ripartito, il tiro di Zuppardi che termina sul fondo centrando il paletto, non forte questa volta da parte di Ruffo Attenzione che Allocca ha già recuperato, mette in movimento Sorrentino Poi il pallone per Ruffo che c'entra il palo, clamoroso questo palo di Ruffo Questo palo può anche calciare, allarga invece per Marigliano Il cross di Marigliano sul secondo palo, Monaco di testa Pallone che viene allontanato poi da Esposito e è lì che l'appoggia Mangini Faccio di munizione di seconda dal limite dell'aria con Marigliano che prova il tocco sotto non sorprende però Mangini che la bocca senza Allocca in questo suo pallo, Allocca che calcia e trova la rete del 5 a 1 Gianluca Allocca con gli avversari completamente fermi e impegnati Il pallone è giocato da Catalano, ancora Catalano, questo è finto il tiro Bella la parata in due tempi di Mangini, ma molto bella anche la giocata Mangini in due tempi, poi va al rinvio, Allocca la controlla Fetto e termina qui la partita, Ottica Esposito che vince 5 a 1 contro il Marte di... Buonasera dal Millenium, si è appena conclusa la partita tra Ottica Esposito e Marte di Galeria 19, un risultato di 5 a 1 in favore dell'Ottica Esposito, siamo con Davide Esposito e Mario Sorrentino Partiamo da Mario, una tripletta per te, con un gol anche molto fortunato, però una partita di grande sacrificio Sì, oggi abbiamo disputato una grande partita, anche se mancavano alcuni elementi come Criscuoli, Correale, non so chi altro Però Pisa è importante per noi, però abbiamo fatto un'ottima prestazione Ho fatto tre gol, sì, uno fortunato, tipo il caso della settimana Badel Kalinic l'ho rubato dall'Occa Però dai, io sono un attaccante, quindi vivo per il gol Grazie a tutti Grazie a tutti